simpson hack 4.23.5 vi ricordo che non da soldi limitate né ciambelle limitate però è possibile comprare tutto senza avere né soldi né ciambelle come potete come ora vi faccio vedere ad esempio ho zero soldi piglio la casetta e la installo come vedete è pienamente funzionante non mi assumo nessuna responsabilità né di ban né di malfunzionamenti come vedete posso prendere tutto tranquillamente anche non avendo niente ora questo non lo fa mettere perché c'è troppo nuova di mezzo comunque comprare tranquillamente anche non avendo niente in descrizione sotto il video vi lascerò il link del download e con questo alla prossima ciao ciao